desktop minore di spent class uguale notification barra span video of ken 1908 brozovic si unisce al gruppo l'inter lavora sotto gazzetta cerix link copia embedo copiati potrebbero interessare anche security warning please treat the url above as you would your password and do not share it with anyone see the facebook help center for more information punto da qualche mese a questa parte marcello brozovic è tutto un altro giocatore trasformato da luciano spalletti e spostato davanti la difesa l'evoluzione del centrocampista riporta alla mente lo strano caso del dottor jackie le mister haid anche quella voglia di sacrificio per la maglia dell'inter è sotto gli occhi di tutti e nel derby si è visto rientrato dolorante nello spogliatoio alla fine del primo tempo per una botta alla coscia brazo non si è arresto ed è tornato in campo per finire tutta la partita la sua presenza dall'uno contro il barcellona è ancora in dubbio ma il nuovo marcello farà di tutto per aiutare i suoi compagni e l'inter a uscire dal camp no con un buon risultato punto l'impressione però è che epic non si perderà una serata che può diventare epica nell'allenamento di ieri ha si sentito dolore ma non si è risparmiato completando il programma e lavorando in gruppo spalletti poi conferma che miranda gioca e assicura che abbiamo tante soluzioni siamo abbastanza tranquilli ma speriamo di non dover cambiare troppo per non sconvolgere gli equilibri e provando a giocare la palla è una materia che conosciamo spalletti lo dice senza arroganza ma con orgoglio che qui aiuta si legge sulla gazzetta dello sport punto gazzetta dello sport spalletti lo dice